Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Porta a porta per vendere finti salvavita del gas La polizia di Fano ha bloccato una banda che ha già truffato diversi anziani Dal 1 gennaio si cambia nome Colli al Metauro nasce dalla fusione di Saltara, Serungarina E anche se contrario Montemaggior a Metauro Intervista al sindaco di Saltara, Guccioni Dopo mesi di lavoro è stata inaugurata ieri la nuova via Garibaldi Scusate Ma avevo già sbagliato, vai Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Porta a porta per vendere finti salvavita del gas La polizia di Fano ha bloccato una banda che ha già truffato diversi anziani Dal 1 gennaio si cambia nome Nasce Colli al Metauro dalla fusione di Saltara, Serungarina E anche se contrario Montemaggior al Metauro Intervista al sindaco di Saltara, Guccioni Dopo mesi di lavori è stata inaugurata ieri la nuova via Garibaldi Mercatini di Natale presi d'assalto a Monbaroccio Boom di visitatori anche a Pergola per la festa del cioccolato Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia Con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 Li hanno bloccati a San Lazzaro, nel quartiere di San Lazzaro Proprio mentre uscivano da una abitazione Nella quale avevano venduto un marchigegno Che a loro dire serviva appunto per salvarsi la vita In caso di fuga di gas Li hanno bloccati e denunciati Vediamo Una truffa dalla metodica, subdola e meschina Come la sostanza che poteva ucciderli Il monossido di carbonio ed un aggengio elettronico Una patacca da pochi euro rivenduta a 30 volte tanto Che poteva invece salvarli da una tragica fine Ma non da loro, dai truffatori L'obiettivo era sempre lo stesso Persone anziane, fragili, possibilmente sole Facilmente suggestionabili Alle quali, con modi anche alle volte aggressivi E anche coercitivi Affibbiavano a costo di 250-300 euro l'una Le macchinette salvavita Per questa truffa, al momento al centro di indagini Ancora in corso Sono state denunciate a piede libero tre persone Ed una quarta indagata Per truffa, tutte e quattro con precedenti simili E sequestrato 28 apparecchiature Trovate in possesso dei denunciati Oltre a tagliandi relativi a pagamenti POS Per 30.000 euro Il gruppo aveva orchestrato Una metodica molto sofisticata Per eseguire la truffa Si recavano porta a porta Con pettorine identificative Il loro passaggio era annunciato da cartelli Messi nel condominio Avevano contratti e copie commissioni Intestate alla ditta Ed un POS collegato ad un conto corrente Per i pagamenti con carta Bancomat O carta di credito Visto che non tutti possono essere in possesso In case di cifre così elevate Quindi nulla lasciato al caso E così tutto sembrava regolare Per adesso abbiamo sequestrato questi 28 prodotti Che non sono prodotti Per cui corrispondono le caratteristiche di salvaguardia Perché sono per la fuga di gas metano O per il monossido di carbone E quindi siamo ancora in una fase di sviluppo investigativo Per noi era importante che ci fosse questo appello Ecco noi chiediamo a tutti Se qualcuno di voi ha avuto un contatto Da gente di questo genere Che abbia questa pettorina arancione Che vi abbia proposto la vendita di questo materiale Ecco si faccia vivo in commissariato o in questura Gli uomini del commissariato di Fano Coordinati dal dirigente Stefano Seretti Dopo alcune segnalazioni di cittadini Hanno controllato uno degli incaricati Dell'azienda che fornisce assistenza Per gli apparecchi del gas Colto mentre lasciava un'abitazione Di un'anziana nel quartiere di San Lazzaro Alla quale aveva spillato 299 euro Per la macchinetta salvavita Sì ci siamo accorti della loro presenza Sul territorio di Fano Ci hanno anche chiamato alcune cittadine Sono tutte anziane che allarmate Quindi diciamo c'è stato anche questo dato positivo Diciamo il fatto che la sensibilizzazione Fatta in passato Proprio per le truffe alla categoria di anziani Ha funzionato Ci sono stati degli anticorpi Che si sono manifestati Quindi ci siamo subito attivati Li abbiamo subito individuati Li abbiamo intercettati Li abbiamo presi Li abbiamo identificati tutti e quattro Quelli che battevano proprio a tappeto La città di Fano Li abbiamo rintracciati nel quartiere San Lazzaro Nello specifico Nel primo proprio di dicembre C'è stato un incidente a Pesaro Questa mattina Una microcar di colore bianco Condotta da una ragazza da poco maggiorenne Residente a Pesaro Ha urtato il muro della palazzina Dove assiede il cantiere nautico Rossini Sul posto è intervenuta immediatamente Una pattuglia della Guardia Costiera di Pesaro Che ha richiesto un intervento del 118 Della Polizia Stradale Per prestare soccorso all'autista E anche alla giovane passeggera Che siedeva di fanco all'autista Ancora da chiarire La dinamica dell'incidente Tra una ventina di giorni Ovvero dal primo di gennaio 2017 I cittadini di Monte Maggiore al Metauro Saltare e Serongarina Dovranno dire addio ai vecchi nomi Per adottare quello nuovo Il nome del nuovo comune Ovvero Colli al Metauro Una decisione come ormai è ben noto Imposta dalla Regione Marche Contro il volere in particolare Della maggioranza dei cittadini di Monte Maggiore Che hanno già annunciato Di fare ricorso E dopo aver ascoltato il sindaco Di Monte Maggiore al Metauro Questa sera ascoltiamo invece Le considerazioni del sindaco Del primo cittadino di Saltare Claudio Guccioni Allora sindaco È soddisfatto della decisione Che ha preso la Regione Per portare avanti Comunque il progetto di fusione Beh era una cosa che avevamo Proposto Mi pare che La Regione Abbia fatto Un voto Ponderato Rispetto a quello che è stato La richiesta dei comuni E l'espressione del voto Dei cittadini Ed applicato la legge Quella che è la legge regionale La normativa vigente E' questa Alcune regioni La stanno cambiando Altre l'hanno modificata Ho visto che la Regione Emilia Romagna Ha fatto una modifica Sostanziale Alla legge del luglio di quest'anno E come dire Visto che aumenta Il numero delle fusioni E' giusto anche Questa normativa Che è una normativa Ormai è data di parecchi anni Venga anche adeguata Rispetto a quelle che sono Anche le situazioni Delle casistiche In Emilia Romagna E' un'occasione In cui c'è stato un voto Non totalmente unanimo In tutti i comuni Ce n'è stato uno Un po' Vediamo Saludecio Non si è proceduto Quindi hanno agito In maniera un po' diversa Rispetto a come hanno agito Qui da noi Quello di Saludecio E' un caso diverso In quanto La legge regionale Di proposta della fusione E' stata Fatta prima Di questa Di questa modifica Dall'8 luglio Perché mi pare Che risalga Ad aprile a maggio E in quel caso Il comune di Saludecio Aveva espressamente Votato una delibera Dove annullava Questo procedimento Ecco per voi Andare Diciamo In due Anziché in tre Alla fusione Scorporando Montemaggiore Non sarebbe stata Una soluzione ideale Beh questo Intanto Da un punto di vista Normativo Non era possibile Perché la proposta Di legge Era 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 questa Che prevedeva Una fusione a tre Per cui Non era proprio Materialmente Possibile Fare questa cosa D'altro punto Noi avevamo Anche all'inizio Pensato Di attivare Una fusione A due Questo mi pare Che sia stato Nel Primavera Marzo Aprile Marzo Mi pare Del 2000 Del 2015 Dove i due comuni Saltara Sarugherina Non d'accordo Dopodiché Montemaggiore Ce l'ha chiesto Un anno di tempo Perché loro avevano Alcune questioni Importanti Dal punto di vista L'amministrazione E per cui Abbiamo deciso Anche di aspettare C'è chi dice Che lei si proporrà Come sindaco Della nuova Compagine Insomma Del comune Beh sai Adesso Il toto elezioni E il toto candidati Non mi ha mai Non mi ha mai interessato Noi eravamo In una fase istituzionale Che era questa Cioè quella di andare A realizzare E costruire Il nuovo ente In questa fase Nessuno doveva parlare Degli assetti futuri Perché mettere insieme Mettere insieme Le due cose La cosa è complicata Una cosa è certa Gli incontri Ufficiali E ufficiosi Che abbiamo avuto Sia con i tre sindici Che con le tre amministrazioni Capitato del sì Non abbiamo mai affrontato La questione del futuro Dopo mesi di lavoro È stata inaugurata Ieri Via Garibaldi Una delle vie più importanti Del centro storico di Fano A meno di sei mesi Dall'inizio dei lavori 290 mila euro Di spesa E qualche polemica Iniziale dei residenti Per gli inevitabili Disagi dovuti Al cantiere Finalmente E con un risultato finale Da fare invidia Le strade più belle D'Italia Ieri Apertura ufficiale Di via Garibaldi Che come il suo Illustre intestatario Unisce due zone Quella S Della città Con il centro storico Illuminazione a led Di ultimissima generazione Ed estensione del selciato Anche alla careggiata centrale Con un risultato finale Che ricompensa Dei sacrifici Che i residenti Hanno dovuto sopportare In questi mesi Alla cerimonia inaugurale Il sindaco Seri Ha assistito All'accensione Anche del secondo albero Della città Che carica Ulteriormente La strada Di atmosfera E fascino Quello che mi piace Sottolineare Che è il nuovo corso Di questa amministrazione Che vuol dare un nuovo volto A una Fano straordinaria Da un centro storico Di grande potenzialità E una tappa Del percorso Di riqualificazione Che Fano Attraverserà Grande soddisfazione Anche per i tecnici La dita che ha lavorato Perché effettivamente È diventato un salottino Un salotto Un bell'ingresso Della città Prima era una cartolina Impresentabile Oggi è una bella cartolina Che possiamo presentare Ai nostri concittadini Ma soprattutto A coloro che vogliono Entrare nel nostro centro storico I tempi di consegna Sono stati rispettati Dall'azienda appaltatrice Che aveva preannunciato L'arrivo per Natale Del regalo Ai suoi abitanti Di una strada Libera dal cantiere E così è stato Cosa non da poco Per una strada Che ha subito varianti In corso d'opera E ha stravolto Positivamente La prospettiva della zona Valorizzando molto Anche gli immobili Che vi si affacciano E' una strada importante E' un ingresso della città Una strada Che permette anche Di vedere il mare Quassù E' un ingresso Al centro storico Che veramente Ci ne orgoglisce Abbiamo recuperato Un pezzo di città All'abbandono Gli abbiamo dato un valore Siamo molto contenti E speriamo Siano contenti Anche i residenti I commercianti E tutti i concittadini Che da oggi Potranno entrare in città In un modo nuovo Molto più bello Molto più caratteristico Davvero molto bella E adesso invece Parliamo dell'Unitalsi Che è l'associazione Che si occupa Di accompagnare i malati All'urde Nei vari santuari Del mondo Perché anche quest'anno Organizza un concerto Di Natale Anche quest'anno L'Unitalsi Insomma Fa il concerto Natalizio A scopo Naturalmente benefico Sì Anche quest'anno Il coro polifonico Malatestiano Si è dato disponibile Per realizzare Questo concerto E quindi avremo Anche il coro Incanto Malatestiano Il coro di Viocci Bianche Tutti diretti dal Maestro Santini È un evento Ormai tradizionale Ed è anche un evento Benefico Perché tutti i soldi Che verranno Raccolti Volontariamente Dalle persone Andranno completamente A favore Delle persone Disabili O disagiate Ogni centesimo Versato È un centesimo Che andrà A buon fine E andrà qui Nella città di Fano Dove si tiene A che ora E quando Allora Il concerto Si tiene a San Paterniano Alle 15.30 Ed è domenica Quindi invitiamo Tutta la popolazione Ad intervenire Con l'occasione Ci sarà anche Diciamo Un'altra iniziativa Che invece di Solleticare L'udito Solletica Un po' Il gusto Ed è la proposta Di acquisto Di Oltre ai classici Trenini di cioccolata Anche dei presepi Di cioccolata Che abbiamo fatto Realizzare Quest'anno E complice E complice una giornata Di festa Quella di ieri Appunto Ieri a Monbaroccio Circa 8.000 persone Hanno preso D'assalto I mercatini Di Natale Partocetti Un risultato Importante Che però È frutto Di tanto lavoro E soprattutto Di sinergie Sinergie Strategie Che riguardano Tutto il territorio Sì Io direi Partiamo subito Dalla mia Monbaroccio Dove ieri Abbiamo avuto Un successo Straordinario E abbiamo deciso Tra l'altro Di potenziare Per questo fine Settimana Ancora di più I mezzi Perché c'è stato Veramente Tanto afflusso E dall'eventi Proloco Che organizzano Gli eventi Sicuramente Questo ci ha permesso Di portare Tante televisioni A livello nazionale Nel nostro territorio E comunque Tanti turisti Un successo Inaspettato Però la macchina Della Proloco Tutti i volontari Hanno retto Bene A questo impatto Sì Abbiamo retto Ieri sera Eravamo un po' Stanchi Però insomma È andato tutto bene A livello interno Insomma con le taverne Ristoranti Stand Complimenti Tanti ne abbiamo avuti Per cui Tutto sommato È un buon risultato Sicuramente La location Magic Atmosphere La location nuova All'interno del Palazzo Del Monte È suggestiva È meravigliosa Per cui Tanti complimenti Abbiamo ricevuto E poi Tanta neve Che è la cosa Che vi contraddistingue Sì Tanta neve Nei tre orari Quattro e mezza Cinque e mezza Alle diciannove Ci sarà ancora Tanta neve Oggi Domani Fino Fino a domenica E boom di visitatori Anche a Pergola Dove Fino a domenica Si terrà Cioccovisciola La magica Atmosfera del Natale Il cuore Immenso Dei pergolesi Anche dei visitatori La dolcezza Infinita Di un evento Che ogni anno Sa stupire E così è iniziata Nel migliore dei modi La settima edizione Della festa del cioccolato Del visciolato Organizzata dal comune di Pergola Con la Cov Commercio Un fiume di visitatori Proveniente da tutte le marche Ma anche da molte altre regioni italiane E da Francia Germania e Olanda Ha invaso ieri Il meraviglioso centro storico Della città dei bronzi dorati Dolcezza e gusto L'hanno fatta da padrone Nell'ampia area espositiva Con ben 18 punti di assaggio E vendita di cioccolato artigianale Decine di espositori Giunti da tutta Italia Il pala tartufo Con 150 metri quadrati Per la vendita di tartufo pregiato La piazza del gusto Con 200 metri quadrati Dove degustare cibi di altissima qualità Infine la cena di qualità Preparata dallo chef Daniele Bonanni Che ha deliziato Con il suo menù di qualità La sua amatriciana Il ricavato sarà interamente devoluto In solidarietà Dal Natale invece Un tuffino avanti Per parlare ancora di carnevale Perché il carnevale può essere fonte di reddito E quindi può creare economia E anche occupazione Ne è convinta la lente carnevalesca Che su questo tema Ha organizzato un convegno Se si parla di carnevale Si pensa subito alla festa I colori Alla spensiratezza di un pomeriggio Naso all'insù Ad aspettare Che il getto di dolciumi Ci faccia portare a casa Un bel po' di lecornie In pochi pensano Che dietro questa macchina Del divertimento C'è una vera industria Ci sono persone Che lavorano mesi e mesi Per organizzare Per pianificare Per costruire Carie e mascherate E che questo può essere Un motivo di sviluppo Socio-economico Per tutta la città Il carnevale regala divertimento Ma può assicurare Un futuro economico E realizzare Le aspettative E le aspirazioni Di tanti giovani Per questo E seguendo il filone Filosofico Di questa nuova epoca Della carnevalesca Che domenica Alle 11 Nella sala ipogea Della memoteca Montanari Si tiene un convegno Interattivo sul tema Il carnevale È creatività E lavoro Il secondo convegno Fano città del carnevale Creatività e lavoro È un Come dire Un grande laboratorio Un momento di informazione Dove noi porteremo A conoscenza La città di Fano Di quello che in verità È per noi il carnevale Quindi cerchiamo Di liberare il carnevale Dai preconcetti Che il significato Finora Che gli abbiamo Un po' tutti dato Quindi di festa E basta Si possa avvalere Invece Di parole diverse Che non rimangono al vento Quindi Il carnevale È lavoro Il carnevale È turismo Il carnevale È crescita culturale Il carnevale È comunità E con il convegno Di domenica Ospiteremo Diciamo così In maniera Creativa Non solo le parole Ma i contenuti I significati Di questa nuova Nostra esperienza Dopo il convegno Nel pomeriggio Avvieremo Quest'azione Di coinvolgimento Per la città di Fano Che è Quella Dei laboratori creativi In cui Sia bambini Ragazzi E adulti E anche anziani Potranno avvicendarsi Appunto In attività In workshop Veramente creativi Relativi appunto A diversi ambiti Della creatività Di ogni persona Potranno scoprire Delle nuove attività E divertirsi E quindi Pensare al carnevale Proprio come Questa nuova idea Che noi vogliamo dare Appunto Questa nuova versione Del carnevale Divertimento Sì Ma anche Stimolo Coinvolgimento Partecipazione E anche Attivazione Dei talenti E delle abilità Creative Delle persone E ancora Iniziative di solidarietà A favore Delle popolazioni Terremotate L'associazione Apito di Fano Sabato e domenica Organizza Un mercatino Alimentare Con prodotti Acquistati Direttamente Dai produttori Terremotati Allora Apito Ha messo in piedi Un mercatino Solidale Non solo Insomma Ha una mandata Ma a doppia mandata Perché quello che vendete L'avete acquistato Da dei produttori Che stanno Particolarmente Soffrendo In questo momento Sì Appunto La Apito Insieme alla cooperativa Il Pino E in collaborazione Anche con La Proloco Di Fano Ha pensato Di devolvere Quella cifra Che normalmente Tutti gli anni Devolviamo in solidarietà Proprio a favore Dei terremotati Per cui Siamo proprio scesi Fisicamente Nella provincia Di Ascole Di Macerata Ad Arquata E a San Severino Marche Dove abbiamo comprato Da dei produttori locali I loro prodotti Salumi Formaggi Legumi Lenticchi E tutto il genere E pagati direttamente E adesso Faremo questo mercatino Qui In Palazzo Gabuccini Nei prossimi weekend 10-11 17-18 Di dicembre Dalle 3 Alle 8 Del pomeriggio Proprio per Raccogliere Dei fondi Che saranno Totalmente Poi Donati Al sindaco Di Castel Sant'Angelo Sul Nera Che come sapete Abita a Fano Quindi è un cittadino Fanese A tutti gli effetti In queste giornate Gli orari In cui sarete presenti Nei luoghi Dove avete allestito Il mercatino Beh Saremo presenti Dalle 15 Del pomeriggio Alle 20 In coincidenza Con i mercatini Che si stanno Svolgendo Poi per tutto Il centro di Fano Sabato Al porto turistico Di Fano Si parla Di alternanza Scuola e Lavoro Delle possibilità Che il polo 3 Di Fano Mette a disposizione Dei suoi studenti E delle aziende Del territorio Siamo già In tema Di open day Per le scuole E si pensa Già Alle iscrizioni Tra le tante Possibilità Che i giovani Possono valutare Ci sono gli istituti Tecnici Che rappresentano Una porta aperta Direttamente Sul mondo Del lavoro O che possono Essere propedeutici Per scelte Universitarie Future A Fano L'istituto Tecnico Trasporti Logistica Archimede Ne è un esempio Lampante Nella giornata Di domani Sabato 10 Al porto turistico Di Fano Docenti Ed aziende Di fama mondiale Che nel periodo Di alternanza Scuola lavoro Hanno collaborato Con l'istituto Sono a disposizione Di tutti gli utenti Perché questo convegno Vuole in particolare Evidenziare Le collaborazioni Che ha il nostro istituto Col settore della nautica Perché? Perché se è vero che In città e in provincia Si conoscono Le opportunità Lavorative Offerte Dalle aziende Di meccanica Elettronica Impiantistica In generale Le aziende Invitate Che sono alcune Sono solamente alcune Delle aziende Della nautica Che collaborano con noi Queste aziende Sono conosciute Ma non tutti Sanno le opportunità Che queste aziende Conosciute Possono offrire Ecco perché il convegno Di domani Per introdurre E presentare Le opportunità Di quelle che noi Chiamiamo il cluster Del settore nautico Anche sentire Dalla viva voce Di chi è già Nel mondo del lavoro Passando proprio Per l'Archimede Ed una Delle aziende Presenti al convegno Può essere Una testimonianza Estremamente efficace Sono diplomato Nel primi giorni Di luglio Nel 2016 E nei primi giorni Di agosto Ero praticamente Già a bordo Quindi è stato Un salto Diciamo Di qualità Dalla scuola Direttamente Nel mondo del lavoro In tempi brevissimi Mi sono trovato Benissimo Sia nell'esperienza A bordo Che sia nei 3-4 anni Che ho frequentato L'istituto Sono stato seguito Sempre passo passo Da tutti quanti I dirigenti Diciamo I professori Durante il mio cammino In questo momento Il mondo del lavoro È spietato Non si riesce sempre A trovare Ciò che uno Voglia di fare Seguire la propria passione A volte ti devi adattare Pur di fare sacrifici Però Se uno Ha le idee ben chiare E sceglie bene Quello che vuole fare Riuscirà sicuramente In quello che desidera Abbiamo pensato Abbiamo pensato proprio Di organizzare Questa giornata Proprio per Far sì che Si sappia Che esiste A Fano Un istituto Tecnico Del settore Tecnologico Che come indirizzo Ha trasporti e logistica E che appunto Si chiama Archimede Questo istituto C'è Ed è qui a Fano Ed è l'unico istituto Della provincia Di Pesaro Urbino Che ha questo tipo Di indirizzo Quindi credo Che sia fondamentale Che appunto Ecco La cittadinanza Non solo di Fano Ed è per questo Che poi replicheremo L'evento A Pesaro In data 17 dicembre Al Club Nautico Che tutta la provincia Sappia che esiste Appunto Questa opportunità Venite a visitare Le nostre scuole Noi abbiamo Venerdì 16 dicembre Abbiamo appunto L'open night Dalle 19 alle 22 E poi sabato 14 gennaio Sabato 21 gennaio E domenica 29 gennaio Abbiamo gli open day Dalle 15 e 30 alle 18 e 30 Per tutti comunque Il convegno rappresenta Un'occasione unica Per conoscere a fondo Una delle proposte formative Del Polo 3 di Fano Questi studenti Diciamo acquisiscono Delle competenze Quando finiscono L'istituto tecnico Che sono spendibili In realtà Anche in altri ambiti Del lavoro Ma anche dell'università Quindi Diciamo che Imparano Quello che si fa All'interno di una nave Dove tutto è più grande E quindi teoricamente Imparano anche meglio Quello che diventa Il lavoro effettivamente D'ufficio E di cantiere Quindi ecco Invito veramente Tutti i fanesi Ma anche non fanesi A venire A vedere Questo evento Perché di sicuro È interessante Abbiamo detto Che è domani Che è sabato Che è dalle 10.30 Alle 12.30 Al Palagei Della Marina dei Cesari E allora Ci sono tre giovani Tre giovani Che hanno una missione Quello di rilanciare Un teatro Un teatro a Mondavio Una progettualità In campo artistico Molto ambiziosa Ma sicuramente Molto bella E molto stimolante Eh sì Noi siamo gli Asini Bardasci E siamo un'associazione Che vive E lavora A Mondavio In questo bellissimo paese C'è un piccolo teatro Che è il Teatro Apollo Di 80 posti Una vera e propria bomboniera In questo teatro Noi abbiamo deciso Di poter Dar vita al nostro sogno Cioè quello di Dopo tanti anni di lavoro In giro per l'Italia Come attore O come Diciamo operatore Dello spettacolo Abbiamo deciso Di provare A portare Tutti questi nostri incontri Dentro il Teatro Apollo In una programmazione Che da qui Fino al 30 aprile Vedrà protagonisti I maggiori Ecco I maggiori attori O compagnie Del territorio nazionale Ecco Difficilmente ci si stacca Dalle proprie radici Le radici Sono quel qualcosa Che ti fa andare Fuori città Ti fa studiare Ti fa diventare adulto E poi La volontà di ritornare E dire perché Quello che ho vissuto fuori Non posso riproporlo Anche qui Questo weekend Il 10 e l'11 Avremo proprio Il Nest Napoli Est Teatro Che è questa compagnia Che negli anni Iniziò Con lo spettacolo Di Igo Morra Proprio di Roberto Saviano E portano invece A Mondavio Love Bombing Uno spettacolo Uno spettacolo molto impegnativo Sul tema dell'ISIS A Natale Il 27 e il 28 Faremo uno spettacolo Insieme agli abitanti E gli artisti del luogo Fino ad arrivare Ad aprile A Milano Con Alessandro Centolanza E chiudiamo con un concerto Quindi sì Varie compagnie Molto belle Da tutte le parti d'Italia La rassegna Si chiama Anche questo è teatro I nostri contatti Sono info Chiocciola Anche questo è teatro Punto com Oppure ci trovate Su facebook Anche questo è teatro O sulla pagina Teatro Apollo Era l'ultimo servizio In scaletta Grazie per averci seguito Arrivederci